cari amici sapete che io mi tengo abbastanza alla larga dal commentare le stravaganze le assurdità le inversioni della falsa chiesa antipapale gnostico massonica però questa è proprio bella leggo sul giornale di karate seregno desio martedì 24 settembre 2024 il titolo le testimonianze al brianza praide le riflessioni sui temi emersi chiedo scusa per la chiesa ancorata alla tradizione il messaggio di don armando cattaneo come possiamo pensare che il padre eterno ci abbia fatto solo maschio femmine ebbe giustamente no sul palco della brianza il messaggio di don armando ecco lui ha 74 anni quindi dice non è sai un novellino uscito dal seminario due anni fa no 74 anni quindi è stato ordinato in un'epoca in cui ancora qualcosa di cattolico era rimasto e qui fa tutta una spatafiata su sul fatto che l'arcivescovo del pini mi ha mandato a milano nel mezzo della movida lgbt chiedendomi di ascoltare questi ragazzi e ragazze per me è stato un regalo incredibile passo ore a sentire le loro storie ho incontrato persone stupende la storia di zoe ragazza trans e della sua mamma silvia io sto con loro eccetera eccetera dice senza voler fare una predica anche se per noi preti è difficile voglio ricordare che il padre eterno ha creato miliardi di galassie come possiamo pensare che ci abbia fatto solo maschi o femmine beh ha fatto anche miliardi di sessi no naturalmente ha fatto un'infinità di persone diverse e grandiosi ha aggiunto da un armando suo figlio gesù non ha mai scartato nessuno gesù non ha mai scartato nessuno però l'inferno è un dogma di fede per cui vi invito a non credere ai preti che dicono quindi non credete ai preti che vi parlano dell'inferno mi raccomando chiedo infine scusa per la nostra chiesa che purtroppo è ancora alla tradizione a dei tempi molto lunghi ci sono tanti ragazzi che vengono da me dicendomi che la cristianità ha millenni ma loro hanno solo vent'anni non hanno tempo di aspettare capite la chiesa si deve adeguare ai desiderata di questi ventenni con i loro miliardi di sessi io ripeto loro di essere felici perché dio padre ci ha creato così bellissimi allora cari amici che dirvi è inutile prendersela con questi qui che sono passati dall'altra parte in tutti i sensi sono passati dall'altra parte fatevi un esame di coscienza voi che cosa state facendo ripeto la colpa non è loro loro hanno già il loro destino segnato preciso e marcato sia dal punto di vista storico culturale ma anche dal punto di vista spirituale sono cooperatori della verità involontari quindi cosa state facendo voi avete firmato la petizione quella sulla sede impedita avete firmato e fatto firmare l'ultima petizione per i funerali trasparenti del prossimo pontefice vero presunto che sia state diffondendo la questione della sede impedita state scrivendo ai vostri vescovi ai vostri preti non prendetevela con questi che sono passati a quella che ticonio chiamava la chiesa del diavolo mi sembra che qualcuno disse maschio e femmina li creò ma questo prete ex cattolico don armando cattaneo dice che il padre eterno ha fatto come possibile pensare che ci abbia fatto solo maschio e femmina vedete tutto a rovescio quello dice maschio e femmina li creò ma come è possibile che solo maschio e femmina quindi questa è un'altra chiesa è una chiesa agnostica sostanzialmente è la chiesa del diavolo di cui parlava ticonio e di cui parlava anche papa benedetto loro hanno preso questa strada non perdete tempo ad arrabbiarvi non scandalizzatevi non sdegnatevi ogni volta che bergoglio tira fuori delle assurdità gioite siate contenti perché tutte queste cose che emergono non fanno altro che consapevolizzare finalmente un popolo cattolico giunto a livelli cognitivi quasi da 104 perché non riescono più a capire quello che gli si fa leggere si chiama analfabetismo funzionale gli fai leggere gli articoli 76 e 77 dall'universi dominici gregis gli fai leggere la declarazione papa benedetto gli fai leggere il canone 332 e non capiscono questa è una forma di disabilità è una forma di declino cognitivo preoccupante e imbarazzante quindi voi che siete rimasti ancora sani ancora normo ragionanti non perdete tempo a infuriarvi per le uscite di questi che fanno parte di un'altra chiesa una chiesa scismatica antipapale agnostico massonica ma per così dire utilizzate quel vostro moto di rabbia per passare all'azione sempre coi dovuti modi ecco l'altro giorno su twitter è comparsa una slide che insultava papa francesco è un impostore di qua di là no quello sbagliato sbagliatissimo ho chiesto a questa persona di rimuovere quel cartello perché ogni volta che voi travalicate le regole della correttezza formale poi i nemici che non possono attaccarsi ad altro si attaccano a quello quindi non usate la rabbia solamente per sfogarvi usate la rabbia trasformatela ecco vi do uno spunto alchemico che piacerebbe molto al buon papa francesco trasformate il piombo della rabbia nell'oro dell'azione nell'oro dell'operatività diffondete al massimo la petizione sulla sede impedita sulla trasparenza dei funerali diffondete al massimo i contenuti sulla sede impedita sostenete al massimo tutti quelli che parlano dell'unica cosa che conta la sede impedita non date retta a quelli che parlano di papa eretico non date retta agli unacum non date soldi alla bussola quotidiana non date soldi a tutti quelli che continuano a menare il camperlaia e a proteggere queste gerarchie ecclesiastiche che vogliono tenere tutto sopito troncato troncato sopito un giorno verrà che sarete troncati voi saranno troncate le vostre carriere a furia di sopire troncare troncare sopire bene ci vediamo il 29 a terni impegnatevi per favore anche per diffondere le locandine di queste conferenze quindi il 29 a terni il 12 ad ascoli il 13 a montesilvano in provincia di pescara il 18 a manerba sul garda il 19 a bergamo il 20 a bologna grazie per il sostegno al nostro lavoro come vedete anche quando non compaiono i miei post sto lavorando per voi in questi giorni ho studiato a fondo la questione della petizione quando mi hanno bloccato il canale ero attivo su di sé quindi noi lavoriamo indefessamente sosteneteci per favore e divulgate questi contenuti non per fare un favore a chi vi parla ma perché questa è una battaglia millenaria come vedete dall'altra parte ci sono i preti o presunti tali che dicono mi pare che il padre eterno ha fatto solo maschi e femmine e quindi c'è una chiesa da salvare in ottica di fede tutto è nelle mani del padre eterno ma il padre eterno non farà nulla al posto degli uomini perché non è un babysitter grazie un caro saluto a tutti